Comunque, in sostanza, mi sta aiuto cosa ne pensi? Penso che goda, andiamo a fargliottare il godo Ma come vai a fargliottare? Andiamo a fargliottare il godo In casa Buffonbo Ha fatto... Nooo, per il discorso che faceva L'accesso c'è casa nostra Maschio C'è più c'è casa nostra là giù Si Ah, l'ho vista che è una cosa Sembrava un cipolla piuretta Ha parato tutto, ha parato Sembrava un cipolla piuretta Parava che coglioni è? La piuretta beviò Oh, a calcio! Che cosa è la piuretta? Che francese bevi la piuretta? Non mi ha cominciato, non mi ha toccato Come non mi ha toccato? Non mi ha toccato Non mi ha toccato, non mi ha toccato Vedalo, vedalo Vedalo, vedalo Fermi Beh, gli gli ho fatto bene Ma sei allegri? A vero, non mi ha detto? È vero Allergy Allergy? Allergy per la